Madonna ragazzi bentornati a tutti sono Ottobitto e siamo qua con la nuova stagione di Splatoon 3 ci sono le patch notes purtroppo non sono riuscito a registrare questo video la mattina al primo pomeriggio però adesso ci sono e c'è un bot di roba ci sono tutte le robe, bilanciamenti, grossi grossi cambiamenti in questa stagione come l'altra volta farò un video senza tagli quindi mamma mia andiamo a vedere cosa hanno fatto chiaramente sarà giunto il DLC, il DLC uscirà in realtà già domani mentre la stagione sarà il primo marzo quindi il DLC esce un giorno prima, farò un video anche su quello, avrà gli stessi negozi di Splatoon vabbè questo di Splatville questo lo sappiamo già niente di che stagione e catalogo ecco qui abbiamo un po' un riassunto delle varie novità di questa stagione su cui non ho potuto fare video in questi giorni perché ho avuto diversi impegni, vacanze e tutto e allora abbiamo vabbè nuovi cataloghi, ci sarà una nuova marca di vestiti da Z più F 126 nuovi oggetti nei negozi quindi tra vestiti immagino e le cose per l'armadietto poi ci saranno due nuovi scenari per le battaglie, la Umami Ruins c'è il nome in italiano mi sa però non voglio andarlo a cercare, lo vedremo quando uscirà questa è nuova, è Mantamaria di Splatoon 2, poi due armi nuovi, due nuove armi speciali il Kraken Royale, Kraken Reale verrà chiamato e il Super Chump cioè diversivo esplosivo su cui lì ci ho fatto i video poi ci saranno 12 nuovi kit di armi, vedremo dopo, nuove carte alla splattanza e premi che si possono ottenere in Salmon Run con le scaglie di pesce ecco quelli poi magari li vedremo in gioco perché ci sono i vestiti che c'erano su Splatoon 2 con la Salmon però vabbè e questa è una cosa molto bella e si potranno godagnare più punti di catalogo nella settimana finale di stagione per un bonus speciale, molto molto bello quindi per chi non ha ancora finito la stagione gioca solo negli ultimi giorni così almeno magari riesce a finire il catalogo questa è una cosa bellissima, la nuova, questa stagione, questa feature del pool non so come verrà chiamata in italiano però praticamente sono i codici delle lobby il fatto è che anche dopo averlo letto, che l'ho letto già diverse ore fa tutto questo non ho capito bene come funzionasse quindi penso che sarà meglio vederlo in gioco però praticamente se inserisci una frase e gli altri inseriscono la stessa frase allora ci si può incontrare in una lobby forse senza essere amici dovrebbe essere questa la storia comunque questa roba non l'ho capita bene non per la traduzione ma proprio perché non so bene cosa significhi nel concreto quindi quello lo vedremo in gioco e qua ti dice che questa è un'altra cosa quando ricevi un invito per giocare oppure qualcuno ti mette mi piace a un post o così o alle robe allora lo vedrai a schermo anche questa è una cosa molto molto carina però passiamo ai cambiamenti al multiplayer che queste sono le cose molto belle ovviamente qui ci danno più che altro le informazioni non sono bilanciamenti crack in reale e il diversivo esplosivo questi li abbiamo già visti nei video che ho fatto appositi la cosa carina del super jump che sembra super jump è proprio che i punti dove cadono le bombe sono proprio identici a quelli del super salto ci sono anche i nomi dei giocatori della tua squadra finti che sono veramente fighi e qua dice che possono essere distrutti se colpiti con un attacco quindi come se potessero essere distrutti con qualsiasi attacco ma a quel punto sarebbero troppo scarsi quindi credo che comunque avranno magari più punti vita di così sennò sarebbe veramente veramente troppo scarso secondo me però vediamo allora qui ci sono le nuove armi che verranno aggiunte non sono armi nuove ma sono solo nuovi kit e ecco visto che siamo qua vi darò le mie opinioni su questi kit il marker neo con trasferitore tintofono 5.1 un po' come quello che c'era su splatoon 1 niente di che alla fine sull'uno non lo usava nessuno perché marker col trasferitore sì è bello perché si muove in fretta mentre i trasferitori però come arma main non ha proprio niente e senza una bomba è veramente dura combattere e spostarsi in certe situazioni quindi è un'arma proprio un'arma fastidiosa più che altro molto veloce che può piazzare trasferitori in giro per la mappa essere fastidioso con i tintofoni ma non lo vedo nel meta ecco arma fastidiosa e basta poi marker d'assalto neo pazzesco cioè hanno preso l'arma migliore del gioco gli hanno messo un altro kit fortissimo come se ce ne fosse bisogno e hanno messo apc bomba triplo tornado vabbè enezapo 89 questo questo vabbè si era visto i primi giorni robobomba diversivo esplosivo buono dai da supporto il 3000dx muro di colore kraken royale fighissimo sweeper cm nebbia tossica pioggia questo non mi piace troppo diciamo forse è meglio del kit che c'è adesso perché il kit che c'è adesso c'ha lo sparaline che è scarsissimo però questo la nebbia tossica che non è chissà cosa diciamo ce l'aveva quello del 2 però quello del 2 aveva i razzi e quindi era fortissimo mentre questo ha la pioggia che è molto 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 meno forte comunque kit non terribile ma neanche fortissimo triplete compatto d gli hanno dato granata che è ottima veramente e mega timbro il mega timbro l'hanno un po' baffato però solo come danni agli oggetti dopo vediamo e cioè è un'arma molto divertente non so quanto potrà essere meta perché è comunque più difficile da usare e non così forte magari rispetto ad altri shooter che già sono nel gioco come lo splasher e il marker d'assalto il 2000 queste cose qua però sicuramente è un'arma divertente che può essere usata anche molto molto bene quindi mi piace questo kit blaster rapido di x torpedinatore jet splat kit molto carino sinceramente bello anche questo divertente torpedinatore molto forte jet comunque può fare delle combo con l'arma principale l'hanno un po' baffato poi vediamo anche quello blaster da mischia neo bomba curling super chump non mi piace troppo come avevo già detto non mi sembra un granché ma è meglio il kit ad adesso con bomba splash e turbinator poi rullo splat logo trasferitore kraken è il kit che c'era sull'uno carino però diciamo era carino sull'uno adesso secondo me con come sono i rulli e tutto non sarà altrettanto buono poi lo splatter a carica e combirino della Z più F muro di colore triplo tornado questo io non sono capace di usare il muro di colore sui cecchini però chi è capace veramente può dare un fastidio assurdo e non si fa neanche ammazzare dagli altri cioè secondo me è veramente forte questo kit purtroppo da idrante lo dico e poi secchiostro triplo master bomba gassosa rinfrigorente kit da supporto che ci può stare secondo me è anche forte nelle giuste mani quindi buono ecco qua poi bilanciamenti purtroppo vabbè qua posso scusare la mancanza dei bilanciamenti perché è un aggiornamento in cui hanno aggiunto un casino di roba quindi ci sta non hanno non hanno voluto mettere troppi bilanciamenti anche se hanno fatto anche anche qui sicuramente meno di quello che potevano e siamo tutti d'accordo hanno baffato solo l'ampio rullo raddoppiando circa il danno agli oggetti come muri di colore ombrelli eccetera e va bene giusto perché non faceva un cacchio di danno e adesso ne fa di più in ogni caso il kit dell'ampio rullo è lezzo quindi finché non gli danno un secondo kit rimane un'arma inutile praticamente perché con un muro di colore e vampi inchiostro cacchio cacchio ci fai poi hanno nerfato la granata che ci sta secondo me perché era sempre stata fortissima secondo me si potrebbero nerfare anche le altre bombe un pochino magari o baffare altre secondarie comunque hanno hanno fatto come la bomba gassosa qualche aggiornamento fa cioè che quando ne tiri una dopo ci vuole un po' di più per poter recuperare l'inchiostro 0,16 secondi ecco e qua hanno invece fatto una cosa carina a triplo come si chiama il turbinator insomma il triplo turbinator adesso non mi viene il nome in italiano c'è un lapsus boh però niente tagli quindi andiamo avanti hanno hanno aumentato il danno al granchio armato di circa 20% al jet 2,5 per all'armatura del granchio armato e 3 per al mega timbro sempre all'armatura del granchio armato quindi non hanno fatto un nerf diretto al sto granchio che è fortissimo però hanno aumentato i danni che altre speciali gli fanno che è una cosa che effettivamente è molto giusta e adesso rende soprattutto il jet e il timbro più forti in questo meta specifico mentre invece il tintofo 5.1 hanno fatto un buff che secondo me non serviva e che lo rende la più fastidiosa cioè adesso se metti special power up arma speciale più in piccole quantità l'effetto sarà maggiore quindi lo puoi far durare di più con meno spesa in termini di spazi nei tuoi slot di abilità però l'effetto massimo non sarà aumentato quindi diciamo è una curva diversa la fine è uguale ma invece di fare di fare così farà così cioè l'inizio basta meno per avere tanto effetto e poi il massimo resta uguale ecco qui cambiamenti ai punti delle speciali pochissimi solo 5 10 in meno all'aerografo AMG credo sia quello normale quello col col motosqualo ci sta 10 in meno all'NZAPO 85 ma il fatto è che l'NZAPO 85 non è scarso lo stanno buffando solo perché è peggio di altri shooter però non è scarso di per sé infatti non capisco bene sti buff 10 in meno secchiostro triplo va bene 10 in meno alla tetrapenna va bene 10 in meno all'arco va bene sicuramente però di nuovo dove sono 10 punti in più al market d'assalto dove sono 10 punti in meno allo sparasole insomma buono ma ci sono alcune armi che da almeno 3 aggiornamenti che avrebbero bisogno di dei bilanciamenti ai punti delle speciali e non glieli stanno facendo quindi proprio brutto in certi sensi però almeno quello che hanno fatto ci sta qui roba assurda cambieranno finalmente le mappe sapete che c'è stato il famoso video di Prochara in collaborazione con Bypedal Squid e FLC dove hanno fatto vedere che le mappe sono fatte male su Splatoon 3 un video di mezz'ora mi pare comunque che è stato ricevuto molto bene dalla community anche da quella giapponese hanno messo i sottotitoli no e finalmente cambieranno le mappe qua appunto c'è subborgo siluriano la cambieranno in tutte le modalità mercato fruttato in mischia zona e vongol poi poi discarica discarica proprio terribile la cambieranno in mischia zona bazooker vongol ponte sgombro tutte le modalità museo di cefalò che secondo me museo di cefalò era una di quelle che andavano bene quindi non lo so mischia zona bazooker vongol bisogna vedere come e quanto le le cambieranno ste mappe villa anguilla mischia zona mercatotano mischia zona torre vongol gol e solljoland mischia zona vongol gol potevano farla anche in altre modalità solljoland vabbè e poi vabbè il suono di quando un compagno attiva il martello il jet o il granchio è meno udibile alla tua squadra ok cambiamenti alla salmon run aggiungono aggiungono non aggiungono un nuovo salmonarca che si chiamerà orroboro e sarà un serpente volante non lo so molto figo e qua dice che se appari se il fatto che appaia o il colos salmonoide o l'orroboro dipenderà dal dal tipo di lavoro cioè penso che ogni rotazione di salmon avrà sempre un boss e quindi non sarà casuale ogni volta ma sarà fisso quindi adesso per le ondate bisogna vedere quali oltre a quali armi ci sono anche quale boss c'è poi vabbè hanno messo i dati della big run perché ci sarà la big run in campus hippocampus non mi ricordo la data ma ci sarà quindi sono sicuramente molto contento e poi hanno aggiunto anche quest'altra cosa in salmon fighissima l'extra work non so se abbiamo detto il nome in italiano questa è una cosa che si può fare soltanto in gruppo con amici non da soli un gruppo di due tre o quattro persone e poi devi competere contro altre squadre usando lo stesso scenario della salmon cioè insomma sono partite che sono sempre uguali stessi spawn dei boss stesso tutto e le puoi ripetere quante volte vuoi entro il tempo limite immagino per prendere più uova possibile quindi un po' come la big run cioè che c'è l'obiettivo delle uova però qui è sempre uguale e avrà 5 ondate invece di 3 quindi una roba nuova in salmon che è assolutamente apprezzata e appunto qua dice che comunque il livello di rischio iniziale è fissato però quando se tu riesci ad eccedere la quota di uova che ti chiedono di un certo limite allora potrai aumentare il rischio quindi dopo spawneranno più boss e le volte dopo potrai avere un punteggio ancora più alto quindi molto molto buono poi dice che potrai avere la la preview insomma vedere come ti stanno le cose vedere come come saranno effettivamente gli oggetti delle scaglie di pesce quelle della salmon esattamente come lo puoi fare a hotlantis che è il negozio adesso mi viene il nome il negozio delle robe per l'armadietto quindi carino anche questo questa è una roba che non capisco molto bene non so se sia buona o cattiva cioè dice che i giocatori saranno notificati quando la loro connessione è instabile questo è ok ma la seconda parte dice se la connessione continua a essere instabile i controlli dei giocatori saranno disabilitati temporaneamente cioè in partita in sostanza ti fa fermare mi sembra una cosa terribile per i compagni cioè almeno uno se lagga comunque può contribuire alla squadra ora non so se magari allora quando succede questa cosa annullano proprio tutta la partita o cosa perché allora capisco che sia giusto per i nemici non dover affrontare uno che lagga ora dipende quanto lagga perché il limite che metteranno è molto importante però spero che non sia troppo evidente perché insomma magari se uno gioca con l'hotspot dopo diventa ingiocabile e addio insomma il gioco in portabilità come dire bisogna vedere quanto grave sarà questa cosa comunque competitivamente parlando sì è buona per chi ha la connessione ottima per gli altri magari un po' meno splatfest hanno cambiato i punti di esperienza che servono per livellare la maglietta dello splatfest quindi quando hai zero abilità prima serviva un 2000 per passare a uno slot poi serviranno 7500 ma rimarranno sempre uguali mentre invece prima ogni slot serviva sempre di più invece qua complessivamente ci vorrà molto meno per livellare la maglietta dello splatfest molto buono assolutamente poi qua i vincitori delle battaglie per 10% eccetera verranno annunciati al telegiornale che c'è dentro il gioco un po' come era su splatoon 2 sul 3 effettivamente era una cosa che avevano tolto non me ne ero accorto ma era era così e gli annunci saranno automatici quando sei nella lobby hanno cambiato un pochino i colori nelle battaglie tricolori quando attivi l'aiuto colore per i daltonici e quando vinci una per 10 agli amici e ai membri del gruppo in lobby sarà mandata una notifica poi per gli armadietti se premi il pulsante meno poi store all items cioè non so sinceramente cosa significhi forse intende che puoi levarli tutti insieme cioè puoi svuotare l'armadietto in un in un solo colpo premendo il pulsante meno credo che intenda quello con store cioè non metterli dentro ma metterli fuori ecco bellino anche se l'armadietto non mi frega niente ecco qua splattanza ci sarà splattanza online che arriva prima delle partite di lega assurdamente ma è così si potrà giocare appunto con i giocatori nella stessa nella stessa pool quindi giocatori sia amici sia anche non amici che però si uniscono con la stessa parola a quanto pare puoi avere una stanza di fino a 10 persone come quelle private e addirittura puoi usare il tavolo che c'è nel piano superiore della lobby per far iniziare una partita comunque le partite saranno sempre da 2 anche se la lobby è da 10 non so quanto abbia senso per la lobby da 10 però gli altri possono fare da spettatore quindi è una cosa molto carina al branco quindi il LAN sarà un po' la stessa cosa e hanno hanno reso più più responsivi gli input veloci fatti nella schermata di modifica del mazzo è ok poi hanno aggiunto il jukebox alla lobby queste sono tutte le cose che hanno annunciato anche su twitter nei giorni precedenti ma io non ci avevo fatto i video perché non ero riuscito questa cosa è carina puoi ascoltare le canzoni nella lobby però non so perché devi pagare 100 monete questa roba è assurda uno non può neanche ascoltare la musica gratis vabbè comunque la puoi mettere nella lobby guadagnerai canzoni facendo progressi in gioco e addirittura se usa il jukebox quando sei in una partita privata la musica la sentiranno anche gli altri giocatori questa è una roba che sinceramente non mi piace perché allora significa che tutti possono sovrascriversi le musica vicenda e addio sentirne una insomma vabbè poi ci sono altri questi sono gli altri cambiamenti che comunque sono cose fighe mi pare aumentato il numero di spille che possono essere ottenute basate sul livello dei giocatori forse appunto potevi arrivando a un certo livello ottenevi una spilla ora ce ne saranno di più poi gli oggetti che si vedranno allo stesso tempo nei negozi non saranno più 6 ma 9 questo già lo sapevamo questo molto bello perché gioca poco tutti i titoli gli sfondi decorazioni emote e spille eccetera dei cataloghi precedenti che non sono stati ottenuti saranno disponibili nella macchinetta questa questa è veramente buona appunto per chi non ha finito i cataloghi non è il mio caso ma molti non riescono a finirlo neanche in tre mesi perché non giocano tantissimo hanno aumentato la qualità delle immagini in alcune schermate nella modalità foto ha aumentato il tempo prima che si attivi la riduzione del burn in in alcune modalità cioè quando lo schermo diventa grigio appunto modalità come la storia oppure il replay questo era ottimo perché se guardavi un replay e tenevi fermo il controller dopo un po' ti si ingrigiva lo schermo e quindi dovevi toccare per farlo tornare normale invece ora insomma ti faranno prima finire la partita almeno e dopo si attiverà la protezione ecco questa per migliorare l'efficienza del matchmaking nelle battaglie anarchiche aperte il matchmaking nell'aperte fa schifo le squadre saranno sempre sciolte dopo una partita attenzione poi vediamo e saranno giunti nuovi giocatori se solo alcuni dei giocatori selezionano continua cioè se tu sei in una anarchica aperta con giocatori casuali e non tutti e quattro mettono continua cioè almeno uno mette no la squadra viene completamente sciolta così può essere rifatto il matchmaking da capo in teoria meglio con armi migliori spero questa è una cosa che mi piace devo dire anche se è un po' un peccato non potersi tenere i compagni ma vabbè alla fine il matchmaking è superiore a tenersi compagni secondo me anche perché vabbè comunque le aperte ci sono for fun quindi meglio avere il matchmaking buono comunque se giochi in gruppo con amici gli amici resteranno sempre non verranno mandati via e questo lo dice qui poi qua spiega perché hanno fatto i cambiamenti dice che questo aggiornamento si focalizza sull'aggiungere il supporto per la parte di coloropoli del pasto espansione aggiungere i dati della stagione fresca 2023 fare degli aggiustamenti alle battaglie i cambiamenti sono focalizzati principalmente sull'assicurarsi che le armi speciali siano bilanciate e infatti hanno messo i moltiplicatori di danno contro il granchio che sono cambiamenti buoni e appunto ecco poi hanno cambiato qua fa tutto un giro di parole per dire che vogliono limitare lo spam di granate e quindi hanno fatto appunto che si debba aspettare di più per recuperare l'inchiostro analizzando i dati in questo stato in uno stadio iniziale appunto speriamo di rilasciare poi dei dati di aggiornamento fra non molto tempo che includano bilanciamenti alle armi principali questa è la cosa che ci interessa insomma sperano di fare bilanciamenti alle armi principali presto per la Salmorano hanno aggiunto la Extra War che è il nuovo Salmonarca ci saranno uno o due eventi Extra War nella stagione fresca 2023 e per adesso appunto ti servono degli amici un gruppo di giocatori per parteciparci ma considerano l'idea di aggiungere l'opzione di unirsi come giocatore solitario in futuro più che altro mi chiedo ma se tu sei in un gruppo da da tre soprattutto da tre quindi non puoi avere un quarto forse forse non c'è forse non puoi partecipare in tre forse è solo o due o quattro come nelle leghe del due potrebbe essere così effettivamente perché se non puoi giocare da solo non puoi unirti a un gruppo da tre quindi sì mi sa che è solo o in due o in quattro come nelle leghe del due e poi hanno implementato diverse funzioni miglioramenti piccoli e grandi hanno fissato dei bug sistematiche ecco qua ci sono tutti i bug fix che non vi andrò a leggere perché non è roba troppo grossa potete leggerveli voi pianificano di pubblicare il prossimo aggiornamento circa fine marzo o prima metà di aprile che si focalizzerà sul bilanciamento delle armi appunto qua ci sono tutti i bug fix multiplayer salmon run splatfest altri altri cosi e questo è tutto l'aggiornamento ragazzi dai sono riuscito a fare un video non lungo eterno comunque per tutti questi bilanciamenti per tutti questi cambiamenti sono andato un po' in fretta anche contando che non avevo fatto i video nei giorni precedenti insomma c'era ancora molto da dire però adesso vi ho spiegato tutto spero che vi siano chiari tutti i cambiamenti che ci saranno in questo aggiornamento se non vi è chiaro qualcosa lasciate una domanda nei commenti o comunque commentate cosa vi sembra buono cosa vi sembra che avrebbero potuto mettere io posso soltanto dire che sono contento di molte cose molti cambiamenti buono che arrivi splattanza online buono che arrivi un nuovo salmonarca l'extra work insomma tutte le nuove cose i nuovi kit che sono alcuni decenti alcuni magari diciamo tutto sommato sono contento anche per le due nuove le due nuove speciali il nerf in diretta al granchio soprattutto il rework delle mappe sarà molto interessante vedere come sarà veramente interessante queste sono un po' le cose principali poi vabbè c'è il jukebox e tutto che sono cose che si aggiungono e migliorano la situazione la cosa che però mi dispiace veramente tanto è che non ci siano le partite di Lega perché è vero che hanno appunto migliorato un po' il matchmaking delle battaglie aperte anarchiche però le partite di Lega sono una cosa superiore io sul 2 le facevo sempre facevo spesso quelle in coppia magari con Fabitz ne ho fatte tantissime veramente veramente tante ed era una modalità che ci piaceva tanto era anche abbastanza competitiva dipende insomma poteva esserlo come poteva non esserlo in base a chi giocava magari se l'orario magari se c'erano più giapponesi o no ecco comunque sono molto contento diciamo di gran parte dei bilanciamenti dei cambiamenti ma allo stesso tempo c'è molto potenziale sprecato come sempre perché non arrivano le leghe non hanno aumentato i punti della speciale del marker d'assalto e e tutto poi ecco sulla cosa dei rework delle mappe hanno detto che vogliono ridurre l'impatto delle armi a lunga gittata quindi soprattutto il tinter spero però che questo non rompa le balle anche alle splatting perché altrimenti sarebbe inutile perché insomma già le splatting soffrono contro i cecchini se questi rework fanno male a entrambi più o meno non cambia nulla diventa solo un nerf anche alle splatting e non solo ai cecchini comunque dai buon aggiornamento tra l'altro non c'entra nulla ma ho anche visto che Melon il giocatore giapponese è arrivato a 4000 xp nelle partite x fine stagione veramente top 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 achievement era sui 3100 mi pare il record su splatoon 2 adesso i punteggi evidentemente sono molto diversi perché per arrivare ai 3000 c'erano voluti anni sul 2 perché nelle prime stagioni di rango x già 2700 800 era tanto mi sa invece poi si è arrivata a 3000 mentre qua già la prima stagione che comunque vabbè è durata 3 mesi subito 4000 nella regione ovviamente giapponese non in quella europea lì siamo molto più bassi mi sa non so quale sia il punteggio più alto perché non ho guardato ma vedremo grazie di aver seguito questo video spero che l'averlo fatto senza tagli non sia stato un grosso problema di non essermi impappinato troppo e dimenticato i nomi italiani e tutto adesso metto subito a caricare e ci becchiamo domani per il DLC ciao a tutti ciao a tutti